Dàglielo il biscotto, vai. Max, seduto. Seduto e zampina. Zampina, zampina, seduto. Cosa c'è? Cosa stai mangiando? Diccio biscottoni, diglielo. Brancami uno, così. Brancami uno. Brancami uno. Se vuole anche lei il biscotto. Ma il biscotto? Ma se sono più buone queste, direi che si mangiano noi. Ma non c'erano quali? Di sicuro. Guarda, guarda, ora sostenite, però, non c'è in più. Questo è l'ultimo. Bravo. No, zampa. Bravo. Bravo.